portami a vedere il mare di stefania scarpa e mostra a bortighiera sono stata coinvolta da degli amici perché tutte le volte ero un po più restia sono un po più chiusa e invece ho detto mi sembra una bella occasione poi l'ambiente molto familiare allora ho deciso di farlo io sono nata sanremo e quindi dalla nascita praticamente sempre vissuta pane mare e adoro il mare in tutte le sue sfumature in tutti i suoi stati d'animo in tutte le stagioni e visto che l'ho presentata qui a bordighiera in estate mi sembrava a tema proprio il mare la data di chiusura in realtà non c'è comunque due mesi sicuramente grazie